una carta quella che vuoi e l'appoggi sul tavolo per cortesia ok fatela ai nostri amici e appoggiala sul tavolo queste guarda le levo tanto non ci servono più io ho fatto una previsione qui dentro praticamente ci sta la tua carta impossibile guarda la tua carta è una di queste tre è il 2 ma non è il 2 no è il 3 neanche neanche e quattro neanche te l'avevo detto non ha nessuno di queste tre aspetta mi dai un'altra possibilità e dai dai un'altra possibilità su neanche neanche sei provate tutte le provo tutte è un'idea però facciamo così la busta con la mia previsione la previsione è quella qui la tua carta è l'8 no non è neanche 9 e allora magicamente la tua carta è l'ultima che ho lanciato infatti ai 10 di fiori eccola qua non è 10 di fiori facciamo così con la magia un gesto magico giriamo le carte in questa maniera che vedi che la previsione era esatta al cento per cento